Giornata clou ieri per la festa del maggio di Accettura con l'innesto della cima nel maggio e con le operazioni terminate solo con l'arrivo sul posto della statua di San Giuliano. Le operazioni ricordiamo sono iniziate la mattina di sabato 3 giugno con l'individuazione della maggio, un cerro alto circa 30 metri nel bosco di Montepiano. Nella giornata di domenica poi il trasporto della cima, un agrifoglio portato a spalla in paese per circa 15 chilometri dalla foresta di Gallipoli Cognato. Nelle stesse ore circa 50 coppie di buoi trasportavano il maggio. La giornata di lunedì 5 giugno la preparazione del matrimonio tra maggio e cima mentre prendeva quota la parte religiosa della festa dedicata a San Giuliano, patrono di Accettura il cui culto in paese attestato almeno al 1725. Quest'anno per la prima volta è stata trasportata in processione la teca contenente le reliquie di San Giuliano che sono conservate nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Sora in provincia di Frosinone.